Bentornati con Blu Reflection ragazzi, siete pronti? Nell'episodio precedente, combinando le mie eccellenti doti organizzative, tutte insieme, facendo questo in quello e questo con quell'altro, abbiamo completato quasi tutte le missioni in un singolo episodio. Ci rimane solo She Can't Stop Logging, che ci ha dato Kevin, c'è questa ragazza che è nella zona della paura e non smette di ridere, trova tutto quanto divertente, non so come la paura possa rendere le cose divertenti. Ah no, gioia, ecco, allora ha più senso, con la luce del sole Laura sembrava viola, in realtà era rosa. Allora bisogna solo raccogliere le sfere, no? Per cui andiamo a raccogliere le sfere. Che comunque in Blu Reflection ragazzi c'è un boss segreto, ho letto, ed è il primo nemico che attacca Inako la prima volta che va nel common per via di Sanae, nella zona della gioia. Però non so come batterlo, ma dicono che batterlo sia difficilissimo, io non l'ho neanche trovato, né alla mia prima run né alla seconda, ma dicono che sia difficilissimo forse ancora più del boss finale, perché è velocissimo, fa un sacco di attacchi letali e richiede, è l'unico boss di Blu Reflection che richiede davvero concentrazione per essere battuto perfino a modalità facile. Oddio, l'unico non saprei, anche il boss finale di Blu Reflection è un bel palo nel culo, eh? Allora qui c'è una zona ma sono finite le sfere luminose, per cui ecco andiamo qui e cambiamo la sezione, vai. Vediamo un po' dove andiamo a finire adesso. Blu Reflection comunque ragazzi, vi stavo dicendo nell'episodo precedente, che oramai da semplice videogioco si sta trasformando in un franchise vero e proprio, in un vero e proprio franchise. Come mai? Per chi non lo sapesse, soltanto di recente è uscito l'anime Blu Reflection Ray, che si svolge prima del videogioco Blu Reflection questo qua. Infatti Yuzo e Lime hanno un breve cameo nell'anime, però l'anime non si svolge né alla Oshimia High, ma si svolge in un'altra scuola, infatti le divise sono diverse, con tutte altre studentesse diverse. Infatti il cast è completamente nuovo e oltre all'anime sta per uscire Blu Reflection Second Light, ovvero sia il seguito di Blu Reflection. Sebbene sia un seguito come protagonista non abbiamo Inako, ma abbiamo nuove studentesse in una nuova scuola. Poi sta per uscire anche un gioco per cellulari, però esclusiva giapponese, più un gioco basato sull'anime Blu Reflection Ray. Che non si sa ancora se uscirà in Italia o resterà un'esclusiva giapponese. Per cui ragazzi Blu Reflection è diventato oramai un vero e proprio franchise, che conta? Vediamo un po' Second Light, questo il videogioco. Conta 4 videogiochi e una serie tv anime. Oltretutto ci sono dei DLC a tema Blu Reflection. La divisa scolastica della Oshimia Hai, questa qui di Inako, è possibile farla indossare come costume alle protagoniste di Atelier Firis e di Night of Azur 2. Infatti, a luce Anatoria, protagonista di Night of Azur 2, è Firis, Meatlast, che è la protagonista di Atelier Firis. Come costume in DLC possono avere la divisa scolastica della Oshimia Hai. Allora, Superfast, Rieppi, Rune, Altra Decay, Corriere del Secondo Piano. Andiamo quindi, non è ancora finita. Dicevo, a questi due personaggi di questi due videogiochi come... Ah no, è vero, no, no, no. No, 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 non voglio andare qui, mi sono sbagliato. C'ho ancora una missione da fare, allora. School Building, Second Floor, Second Halfway, andiamo. Ma questa chi è, scusa? Ah, Nagumo, no, non è. Ve l'avevo detto che non era Miki quella... La tipa lì di Kaori e Rika. Ah, eccola qui, guarda, si vedeva già in lontananza, andiamo. Oh, è già stato segnato come letto, devo rispondere proprio adesso. Mamma mia, poveraccia questa. Eh sì, che ci sono le persone ansiose che devono rispondere subito ai messaggi. Una volta anch'io ero così e mi arrabbiavo ai visualizzati senza risposta. Poi però, ho capito che la vita va presa con più leggerezza. Non si può sempre pretendere la risposta e rispondere due secondi dopo. Allora, qual è il nostro obiettivo qui? Bisogna sconfiggere quei nemici lì che sembravano, ecco, Terror Anthombed. Allora, due. Questo vuol dire che sono tipologie di nemici forti. Eccolo là, uno. Quindi andiamo subito a fargli una visitina di piacere. E là un altro grande! Guarda, ci sono due nella stessa area. Che culo. Solitamente ti tocca cambiarla con i nemici così forti. Non c'è mai tutto quello che ti serve alla prima visita. Stavo dicendo comunque che Blue Reflection ha a sua volta DLC citazioni ad altri videogiochi. Allora, per esempio, Inako ha una gran varietà di costumi con cui è personalizzabile attraverso i DLC. Non solo la divisa scolastica che sarebbe il suo outfit di default. Per esempio, i costumi disponibili per Inako sono, allora, l'armatura di Arenea, personaggio di Final Fantasy XV. Poi ha l'outfit di Rorona, che sarebbe la protagonista di Atelier Rorona e ricorrente in altri videogiochi della serie di Atelier. Poi, vediamo, altri costumi che è? Quali sono? Non me lo ricordo, però ha proprio altri vestitini di altre eroine dei videogiochi. Sia di Ghast che non. Infatti, Atelier Firis è di Ghast, mentre Final Fantasy XV no, è di Square Enix. Che poi Final Fantasy XV, il pacchetto comprende non solo un'armatura da Arenea per Inako, ma comprende anche una tuta da meccanico di Cindy per Kaori. Non so come mai Kaori, che è un personaggio che, soprattutto, non è giocabile, e la vediamo poco, cioè, il giusto nel gioco, invece che per Yuzo e Lime, ma vabbè. Poi ci sono anche tanti altri outfit così a caso, da quel che io mi ricordo. C'è tipo costumi da bagno, è una divisa mista a costumi da bagno per tutte le ragazze. Però io i DLC non li scarico perché, sarò sincero, io 40 euro per un costumino a una ragazza pixelosa non ce li spendo. Al massimo 40 euro li spendo per un videogioco con le ragazze pixelose, ecco. Ma così no, 40 euro per un personaggino giocabile in più o un costumino? No, di certo, mi dispiace. Se è gratuito ben venga, ma i soldi per cazzatine piccole non li ho mai spesi e mai li spenderò. Andiamo su. È fatta? Direi di sì. Perfetto. Chiediamo un attimo sta sferetta luminosa. Vai. E raccogliamone un altro no. Qui non è nella mia strada, quindi non mi va di andare a fare passi in più. Usciamo dal common e curiamo questa ragazza. Chissà se ci saranno altre missioni. Boh. Ah? Va bene, sì, ha capito che è stressante, come ho detto io prima di inizio a questa missione. Allora. Ecco, non ci sono più missioni, per cui andiamo a fare il rapporto a Yuzo e Lime. Prima però salviamo. Perché come sapete a volte il giorno successivo vi ricordo ancora una volta come un petulante babbeo che il giorno successivo capita anche dopo aver fatto il rapporto a Yuzo e Lime. Per cui andiamo perché prima voglio uscire con... almeno o con Rika o Kaori. Tutte e due non credo di poterlo fare perché il gioco poi mi fa passare per forza al giorno successivo. Però se non faccio il rapporto a Yuzo e Lime poi non mi dà i punti crescita. Andiamo. Va bene, sì, dialogo. Certo che gli faccio il rapporto, vai. Attività riportate. Ok. E ci abbiamo i punti crescita. Ale. Allora, adesso cosa facciamo? Portiamo e vediamo gli MP ecco. Ora che abbiamo le skill più forti di tutte e tre le ragazze, ovvero da 99, dobbiamo aumentare molto gli MP ecco. Per esempio 99 su 140 è già una bella fetta della nostra magia. Per cui se facciamo una volta l'attacco poi siamo finiti. Allora, portiamo a 10 gli MP adesso per cui... Ok. Okissimo. Okissimo più che ok, così non si può. Allora, andiamo al file e chiediamo a Rika di uscire. Poverina, è così... Si considera così ordinare, mi fa un po' pena. Facciamo prima lei, vai. Invita. Dove andiamo? Theater? Wow! Eh, questa non mi è capitata tanto dire, tanto spesso. Proprio all'estremo nord della città. Ah, ok, il film. Va bene, tanto la locazione che capita non è importante. Tanto basta solo fare un determinato numero di appuntamenti affinché il prossimo bond e episodio, così si chiamano i dialoghi a risposta multipla, che ci fanno guadagnare altri frammenti di effetto, si attivino. Ok, allora posso fare qualcosa? No, go to sleep. Infatti anche il tizio che ho visto che ha fatto Blue Reflection, cioè il bagno l'ha fatto pochissime volte, proprio perché non a regola non... Capitolo 6. Qualcuno mi ha chiamata... Ah, dicevo il bagno non serve a niente. Comunque, questo è uno dei miei capitoli preferiti perché introduce una delle mie studentesse preferite. Inako! Sarasa, che c'è? Un messaggio da Mao. Oggi è il giorno. Dobbiamo tenere un incontro e deciderci cosa fare durante il festival. Se non decidiamo presto non abbiamo abbastanza tempo per prepararci. Suppongo che allora andrò. E così ragazzi, se non mi ricordo male adesso, stavolta finalmente... Ah, non ci immagineremo mai cosa fare, vero? Insomma, tutte le studentesse sono terribilmente indecise. Ognuna dice la sua. Ma poi... Veniamo, mi sembra, su con l'idea vincente. Una recita, ecco. A play is it. Adesso dobbiamo decidere che cosa... Che cosa... Cioè, con quello nostro sceneggiato. Che cosa recitiamo? Cenerentola, tutti chiedono qualcosa. Ecco, che cosa dite della sirenetta? E Inako viene fuori con l'idea della sirenetta. Un'altra fiaba. Ma non è da bambini come Cenerentola? Che cos'è quella storia? Me lo potete ricordare? Un giorno la piccola sirenetta vide un principe umano. E si innamorò di lui. Per incontrare di nuovo il principe, scambiò la sua voce con delle gambe umane. Ma il principe non la riconobbe. E si sposò con un'altra. La povera sirenetta quindi si dissolse nella schiuma. Insomma, tutti rimangono stupiti da come la sirenetta sia tragica. Perché infatti, ragazzi, la sirenetta, la vera fiaba, è questa. È una tragedia. Molti hanno visto il classico Disney e credono che ci sia il lieto fine. Ma così non è. Bene, adesso che abbiamo, insomma, nonostante sia tragica, le ragazze apprezzano l'idea di Nako. E quindi decidono di, come evento dello festival scolastico, le classi B, le classi prime, A e B, hanno il loro sceleggiato. La sirenetta. E la loro attività sarà appunto una recita. Ecco, dobbiamo di, dobbiamo scegliere la direttrice della scena. Chiediamo ad Ako per l'aiuto. Non avrà problema a scrivere le cose con tutte le sue queste cose di passione di giornalismo, no? Ok, ma Ako è... È via. Quindi dobbiamo andarla a chiamare. A no, ci manda Kei. Ah, io declino. Eh? Ho faccende di cui occuparmi. Adesso che abbiamo deciso... Chi dirige la scena, per favore, scusatemi. Addio, per adesso. Quella ragazza... È Yuri Saiki. La conoscete? Insomma, questa Yuri si rifiuta di partecipare all'attività extrascolastica e se n'è andata, ora che abbiamo tutto e tutto è stato deciso. La conoscete? È famosa. Ha dei punteggi perfetti in tutte le materie. Ed è anche... La studentessa più brava della sua classe. Ho sentito che ha un quoziente intellettivo di 300. 300? Ma è davvero possibile? E chi lo sa? Ma se qualcuno... Ma se è così furba, potrebbe anche essere. Wow. I tuoi legami si sono rafforzati, facendoti guadagnare punti crescita. Va bene, punti disponibili. Allora, diciamo di... Portiamo la magia a 10 per adesso. E poi la difesa a 10, perché anche la difesa è molto importante. Se no i Sefira ci fanno un culo così. No, voglio portarli punti crescita. Dai, cazzo! Ok. E Lai, ma andiamo su. Perfetto. Vai così. Ora però, fammi salvare la partita. Se no, ho da rifare poi tutti i dialoghi. Ragazzi, direi che per questo mega episodione è tutto. Noi ci rivediamo alla prossima. Ciao! 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 Grazie.